Roberto, è l'ora? No, 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 sono cazzi miei Ah, scusate Siamo con... Oggi Ah, non lo so Roberto, è l'ora? Che cazzo vuoi? E perché mi hai fermato davanti al telecamera? Cato, che cazzo mi vuoi tempo di fare più? I coglioni che mi sono appena lasciato con la donna? Perché adesso ti chiedo... No, telecamera Roberto, è l'ora? No, 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 sono cazzi miei Ah, scusate No, telecamera Ma intanto che cazzo mi vuoi... Vuoi farlo girare i coglioni che mi sono appena lasciato con la donna? No, per quello no, ci manca le tante, ci dispiace molto No, per quello no, ci dispiace molto Ci dispiace molto, mi chiamava? Ma io che cazzo ne so? Roberto? Allora? No, 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 sono cazzi miei Ah, scusate No, telecamera Roberto, e allora? No, 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 sono cazzi miei Ah, scusate Ma io che cazzo ne so No, 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 no